Giovanni Giolitti, il re senza corona. Giovanni Giolitti è stato uno dei più importanti politici italiani della storia. Fu presidente del Consiglio dei Ministri per cinque volte, dal 1892 al 1914 e dal 1920 al 1921, e dominò la scena politica italiana per quasi quattro decenni. Giolitti nacque a Mondovì, in Piemonte, nel 1842, in una famiglia di media borghesia. Studiò legge e si laureò nel 1864. Dopo la laurea, iniziò la sua carriera politica come segretario generale della Corte dei Conti. Nel 1882 fu eletto deputato e nel 1889 divenne ministro del Tesoro. Giolitti era un abile politico e un maestro dell'arte del trasformismo. Il metodo per creare una coalizione di governo flessibile e centrista che isolasse l'estrema sinistra e l'estrema, destra nella politica italiana dopo l'unificazione. Nel 1892, Giolitti divenne presidente del Consiglio per la prima volta. Durante il suo primo mandato, introdusse una serie di importanti riforme, tra cui il suffragio universale maschile, la statalizzazione delle ferrovie e le leggi speciali per il mezzogiorno. Giolitti fu rieletto presidente del Consiglio nel 1893, 1903, 1906 e 1911. Durante i suoi governi, l'Italia conobbe un periodo di grande sviluppo economico e sociale. Giolitti promosse la modernizzazione del paese, investendo nell'industria, nelle infrastrutture e nell'istruzione. Giolitti fu un sostenitore della politica di neutralità dell'Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, Giolitti si dimise da presidente del Consiglio. Nel 1920, Giolitti tornò a guidare il governo italiano. Tuttavia, il suo secondo mandato fu caratterizzato da una serie di difficoltà, tra cui la crisi economica del 1921 e l'ascesa del fascismo. Giolitti si dimise da presidente del Consiglio nel 1921 e morì nel 1928. Le riforme di Giolitti. Giolitti è ricordato per le sue riforme, che contribuirono a modernizzare l'Italia e a renderla una nazione più democratica. Tra le principali riforme di Giolitti vi sono il suffraggio universale maschile. Nel 1912, Giolitti estese il suffraggio attivo a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni. Questa riforma fu un passo importante verso la democrazia, in quanto permise a un numero molto più ampio di cittadini di partecipare alla vita politica del paese. La statalizzazione delle ferrovie, nel 1893, Giolitti nazionalizzò le ferrovie italiane. Questa riforma fu importante per migliorare l'efficienza e l'accessibilità del sistema ferroviario italiano. Le leggi speciali per il mezzogiorno. Nel 1898, Giolitti introdusse una serie di leggi speciali per promuovere lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia. Queste leggi furono importanti per ridurre il divario economico e sociale tra il nord e il sud del paese. Il trasformismo. Giolitti è anche ricordato per il suo uso del trasformismo, un metodo politico che consiste nel creare una coalizione di governo flessibile e centrista, in grado di isolare l'estrema sinistra e l'estrema destra. Il trasformismo fu un metodo efficace per Giolitti, che gli permise di rimanere al potere per un periodo di tempo così lungo. Tuttavia, il trasformismo fu anche criticato da alcuni, che lo accusarono di essere un metodo opportunista e non ideologico. Il giudizio storico. Giolitti è una figura controversa nella storia italiana. I suoi sostenitori lo considerano un grande statista che ha contribuito a modernizzare e democratizzare l'Italia. I suoi detrattori lo accusano di essere stato un politico opportunista e di aver contribuito alla crisi politica, che portò al fascismo. Nonostante le controversie, Giolitti è unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti politici italiani della storia. Le sue riforme contribuirono a rendere l'Italia una nazione più democratica e moderna.